Family Run vigevano undicesima edizione. Domenica 15 maggio, tutti in piazza Ducale dalle 9.30 per la partenza di gruppo, con un percorso di 5 km immerso nel cuore del centro città e arrivo e grande festa in castello. Musica, sport, animazione e tanto altro. E quest'anno la Family Run raddoppia. Sabato 14 maggio, sempre in castello, ingresso libero per l'esibizione canora degli alunni delle scuole elementari e tante altre iniziative. Sarai dei nostri! Grazie a tutti!